Abbiamo parlato di ripartenza, di futuro, in un momento come questo è fondamentale, come sapete, per il nostro paese, per quello che significa il turismo, il valore dell'economia del turismo nel nostro paese, il 13% del PIL, più di 4 milioni di lavoratori impiegati nel comparto, noi siamo un paese di destinazione, un flusso nel 2019 di turisti stranieri che ha superato quello di turisti domestici. È necessario riposizionare il nostro paese nel mondo, lo ha detto Lorenza Buonaccorsi, sottosegretario al MIBACT, che oggi era presente all'incontro tra il sindaco di Firenze e Dario Nardella, con 19 ambasciatori, per presentare loro il progetto Rinasce Firenze. Firenze e la Toscana sono zone sicure, dal punto di vista del virus, ha detto il primo cittadino, c'è la volontà da parte dei paesi stranieri di aiutare Firenze nella crisi economica post-Covid. Privati russi, statunitensi e francesi già si sono resi disponibili ad aiutare la città attraverso donazioni. Abbiamo chiesto agli ambasciatori di aiutarci ad aprire nuove università straniere che si aggiungerebbero a quelle già numerose che abbiamo, centri di ricerca per lavorare insieme su tutto il campo dell'alta formazione. Molte delle nostre imprese sono legate a fondi di investimento, gruppi imprenditoriali di altri paesi e abbiamo ricevuto da parte, devo dire, di tutte le delegazioni una grande rassicurazione sul fatto che questi paesi vogliono continuare a investire su Firenze. Creeremo una delegazione di sistema, sistema Firenze, che visiterà le principali capitali del mondo, non solo per chiedere aiuto, ma direi soprattutto per stringere nuove alleanze e nuove collaborazioni.